Sinergia 2019 è l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi, sono in compagnia dell'amico Patrick Albertengo, founder e CEO di Reopla. Ciao Patrick. Ciao Gerardo, grazie mille. Per l'invito? Per l'invito. Come è andata oggi? Bene, nonostante tu mi abbia mentito perché dovevano esserci 40 persone, un evento in famiglia, invece ce n'erano 300 e in più mi hai messo come primo relatore, quindi mi sono divertito. Moltissimo. Sì, direi di sì. Reopla, quindi dati, cosa puoi fare per il settore immobiliare? Urca. Come Reopla stiamo lavorando per raccogliere dati che possono essere utili a tutte le categorie che operano nel settore immobiliare. Siamo partiti con le agenzie, abbiamo il nostro main service che è Agent Pricing, fornisce valutazione alle agenzie immobiliari. Da circa un anno stiamo lavorando un nuovo progetto, non posso svelarti tutto ma probabilmente saremo pronti ai primi mesi del prossimo anno. Stiamo lavorando sulla raccolta di dati un po' più certificati, quindi l'obiettivo è quello di dare trasparenza al mercato come sempre. E più sicurezza. E più sicurezza, assolutamente sì. Settiamo con ansia. Volentieri. Grazie a te Gerardo. Ci vediamo nel 2020. Grazie ancora.